Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa rosa, dove si ha la ricerca della verità e del proprio equilibrio interiore. Anche quando la verità può minare le fondamenta di ciò in cui si crede, il messaggio che emerge è quello di avere il coraggio di affrontare l'ignoto e di fidarsi del proprio istinto, poiché solo così si può crescere e trovare il proprio posto nel mondo. Questo libro è perfetto per chi ama le storie di suspense ambientate in luoghi suggestivi, dove il confine tra il bene e il male, tra l'amore e l'ossessione, è sottile e pericoloso. La trama del libro Starling Nights, la confraternita degli storni volume 1, della scrittrice Merit Niemeitz, pubblicato dalla casa editrice Harper Collins Italia, è la seguente. Ma Bella ha una borsa di studio presso l'Università di Cambridge. Si sente più a suo agio nelle sale della biblioteca che in mezzo alla gente e l'unica cosa che le interessa è completare i suoi studi in pace. Quando la sua migliore amica Zoe la porta alla festa della confraternita degli storni, però, incontra Cliff e ne resta affascinata, anche se in lui c'è qualcosa di oscuro. Tutto cambia per Mabel quando Zoe resta invischiata in una relazione malsana e cade nelle trame della confraternita, mentre nel campus di Cambridge si verificano incidenti anomali. È allora che Mabel inizia a sospettare che ci sia un nesso che lega questi eventi. Nel tentativo di prendersi cura dell'amica, si avvicina sempre di più a Cliff e inizia a vedere oltre il suo atteggiamento imperscrutabile e malinconico. Pur sentendo che lui nasconde qualcosa, ne è sempre più attratta. Quando la situazione precipita e Mabel sta per perdere tutto ciò che conta per lei, decide di scoprire la verità su Cliff e sugli storni. Anche se ciò potrebbe significare dover rischiare ogni cosa, compresa la sua stessa vita. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.